come vedete siamo in palestra cosa c'è che non vuole il mio outfit quanto questo qua non è una maglia d'allenamento ha il suo stile però le ciabatte ragazzi puoi venire ad allenarti in ciabatte in ciabatte l'obiettivo di oggi signori sarà quello di fare un allenamento estremo con queste bracci che qui ci proveremo oggi tos diventerà ul che ragazzi oggi facciamo diventare ul che hai il braccio un po più grosso del mio e forse non solo il braccio qual è il primo esercizio che mi farei fare primo esercizio direi che possiamo iniziare col petto e qua un petto importante un petto importante non è male però abbiamo bisogno di una forma di ul che capito noi dobbiamo diventare ul che grossi capito di sparsi difendere da tutto e più bacca voglia sono enorme voglio grossissimo let's go bravo davvero dalla macchetta qui 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 a due bianca cosa dobbiamo fare? banca piara con i manuri andiamo giù facciamo questo uno scendiamo lentamente e torniamo in un porto scappa l'unite vabbè la faccia cinque oh madonna mia bravo ma che è sì ma io oh no ma sei impazzito vai guadbo sto vedendo il colpo della serrega sto fermo a dire ma il tuo manco let's go dai più le faggioni del petto abbiamo let's go più Cristi per noi let's go quattro vai cinque ma è un po' ma è un po' partiamo bene questa è la prima serie è la prima serie? sì mi mancano tipo altri 20 quindi devo farlo ancora? sì non c'è problema sono stato forgiato da ogni dèi hai presente quando tipo sotto i video ti scrivono sei un diogrego? ma quale diogrego raga? il trozzo è il dio delle crocs raga questo è il dio delle crocs crocs se stai guardando questo video ho intenzione di collaborare con voi metto solo le vostre scarpe è il miglior cliente che voi potreste mai avere portarci vostro hanno dato tipo 10.000 euro in crocs anche per andare al supermercato che è qua dietro crocs vado quanti devo fare? cinque scavoli da venite fuori verso andiamo e sottiriamo la uno due tre ce la ce la so quattro cinque oddio bro non penso di sentirmi proprio benissimo vai vai ultima serie dai che ce la facciamo che quest'estate bisogna rimorchiare ti voglio carico perchè ho 20 crispy mac bacon che ti aspettano in macchina quindi ti voglio carici se i chili fossero crispy mac bacon io sarei wayne johnson uno due tre quattro ultima cinque mi sta tipo venendo un infarto senti un po' qualcosa guarda potrei allontare un bambino però e per oggi abbiamo finito ma se abbiamo altri tipo 40 esercizi da fare però a me già fa male alla schiena c'è tipo una aveva iniziato aveva iniziato andiamo avanti allora il primo esercizio è andato non proprio in modo facile mi fanno male le braccia e il petto beh giusto tutto quello che c'è nel corpo più petto più rispetto ricordo quindi a me nessuno mi rispetta adesso andremo col secondo esercizio che sarà un po' di braccia facciamo un po' di sulle braccia si ho messo bene sulle braccia si ho messo bene andiamo allora se hai figlia c'è secondo me ce la puoi fare ma vada tu credi un po' troppo in me vai lo facciamo insieme pronto sono nato pronto facciamo uno per braccio quindi facciamo uno due ok let's go vai due tre quattro cinque oh mio dio ma questo vedi quello là vedi quello là sì quello là è un cinque mesi chi è quel petto dico dico mamma mia beh adesso facciamo altre due altre due vai uno due tre quattro cinque ragazzi chi dice che i risultati non si vedono subito guarda qua che bracciro ti hai rotto qualcuno ti ha rotto il cuore sì in passato vero la palestra dici devo pensare a quello così sono motivato capito ok questo è un messaggio per la mia ex adesso penserò a te per motivarmi hai capito ex grazie intanto per grazie adesso grazie a te noi spingeremo in palestra diventeremo più grossi così vedrai cosa ti sei perso capito persa non è un maschio vamos ultimo per la mia ex ne facciamo dieci adesso ne facciamo dieci 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 per la mia ex c'è rotto il cuore c'è rotto il cuore c'è rotto il cuore e anche vamos uno due tre questo è perché mi hai lasciato quattro cinque questo è perché ti sei fatto il mio miglior amico basta otto nove dieci bravo la sua ex bravo la sua ex sperati di non vederti mai più signori anche il secondo esercizio è andato comincio a sentire un po' di fatica mi sento più grosso mi sento più grosso adesso andiamo col terzo esercizio che sarà adesso andiamo a dare un po' di spallucce eh sulle spalle sono messo male bro andiamo col terzo esercizio per le spalle questo farà male perché di spalle sono messo malissimo però ci proviamo perché ragazzi non mollare mai mai tranne la mia ex lei mi ha mollato bastarda allora siamo qui inizio a spaventarmi devo tirar su allora praticamente devi tirar su però da qua ah ecco ok scappo in un inter petto in fuori come sempre singele fuori infiato ok facciamo sei di petto in fuori quanti chili sono? proviamo a partire con 20 chili se ce la faccio alziamo vabbè pronto vai vai uno due dai tre quattro cinque sei adesso lo facciamo con 30 adesso lo faremo con 30 chili 30 mi piace bisogna iniziare con questa mentalità perché bisogna sempre fare il meglio che si può adesso mi spezzo un braccio pronti via e si sente due tre quattro cinque sei un sette ultimo otto ma rimba scintiala secondo me possiamo mettere ancora facciamo 35 facciamo facciamo 35 e se io non mi spezzo un osso non sono contento vai uno vai due tre quattro cinque sei sette ultimo quattro e andiamo qua ragazzi abbiamo un vero warrior comunque un vero warrior signori adesso faremo l'ultimo esercizio e cosa sarà? andremo di squat di squat squat non è facile eh per arrivare le chiappe bravo e le gambe soprattutto come siamo messi a gambe? non so se mi spiego bro sembra un chicken nuggets però ottimo andiamo allora siamo qua nella macchina squat adesso Tozzi dovrà fare almeno otto squat otto squat ce la posso fare quanto peso? possiamo iniziare con un 10 10 per l'hom quindi 20 kg in totale 20 kg in totale con le crocs poi con le crocs ragazzi con le crocs posso fare di tutto vamos bro bro mettimi un po' di musica ho bisogno di essere carico e la metto subito bro pronto? vai dai dai tu m***a ho fatto pesa cosa fa? penso di essermi fatto malissimo allora diminuiamo il peso sicuramente diminuiamo il peso non ce la posso fare 20 kg sono troppi scherziamo passiamo 5 e 5 facciamo 5 e 5 fammi vedere come si fa uno squat quindi andiamo indietro apriamo le gambe anche quanto le spalle e non portiamo i ginocchio avanti ma sentiamo solo col culo quindi andiamo di questo facile quindi 1 2 2 3 4 è lui che controlla me 5 6 7 8 9 ma che sembra facile ma non è facile signori il video può finire qua mi fa male ogni parte del mio corpo anche quelle che non ho usato non so come sia possibile vuol dire che ci siamo allenati bene? vuol dire che ci siamo allenati bene magari diventerò muscoloso magari no e continuerò a mangiare come un baghino se dovessi dare un voto al mio allenamento quanto mi daresti? beh possiamo dare un bel 1 scherzo possiamo dare un bel 9 9? signori io vi ringrazio per la visione di questo video lasciate un lasciate un like seguitemi seguiteci sotto casa su instagram su allifaz dappertutto ragazzi non ci offrezziamo scrivetemi nei commenti altre sfide estreme che dovrei fare noi ci vediamo al prossimo video muovi